ciao a tutti da joker game sono cos'è qui apriamo un attimo il computer allora io non voglio più rischiare sono del garage cocaina se vendo la merce fuori guardate mi dà 350 mila in più per 350 non mi conviene vendo qua 700 prendiamoci i soldi vediamo cosa mi dà ho fatto bene ho fatto molto bene con questi qua non ce l'ho io sono arrivato massimo a 10 sì io sono arrivato massimo a 10 e già con questi qua in città si è tirato anzi guardiamo la scena quando scende lascia il pacco lo lascio in terza persona guardate lui scende poi devo andare qui ok e sopra vedete questa lui si inchina ritorniamo in prima perché in terza non mi muovo bene non mi muovo bene Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. E' proprio dietro le montagne, un po' più giù. Non è detto che è tutto qua. E quindi è rischioso anche qui di non prendere i soldi tutti. Ti dà sempre 30 minuti, 15 consegne da fare. E non sai che mezzo hai, sono tutti mezzi scarsi, mezzi che non vanno. Vabbè, loro l'hanno fatto, però poteva mettere un po' di potenza in più. Vabbè, invece sono tutti normali, tutti col motore originale. Fanno fatica a salire, guarda. Sembra che, come ho detto in un altro video, sembra che ho su 30 bancali da una tonnellata a una. Per dire, guarda questo scemo. Non mettimi vien addosso perché vado a fare le consegne. Ok, via. Ok. 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 Grazie a tutti. 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 Guardate che fatica che fa salire. Ma che roba. è in manomesso. è in manomesso il gioco. è in manomesso. è in manomesso. si vedono. è in manomesso. è in manomesso. è in manomesso. è in manomesso. giravolta. è in manomesso. è in manomesso. è in manomesso. 5 km. è in manomesso. 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 sono tirato. è in manomesso. 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 è in manomesso.